Sì, datemi la polizia. È urgente, signorina! E passo il capitano. Sì, pronto. Lei ci deve aiutare, siamo in molti chiusi nel perimetro e non possiamo venirne fuori. Mi vuol dire che cavolo sta succedendo qui? Abbiamo già perso una dozzina di uomini e non riesco a capirci niente. Senta, c'è della gente qui nel cimitero, sono pazzi, furiosi, sono bestie. Sbranano tutti, è un po' come un'epidemia, sono contagiosi, ma è rapida, molto rapida. Dovete venire subito e portarci via da qui, ma subito, vi prego, vi prego. Come dice, non la sento, non la sento più, aspetti un momento. Ehi, ma che succede? Attento, alza! Cuoco! Spero più! Che succede? Hanno sopraffatto la polizia, non sono più circondati, escono. Gesù mio!